Ciao a tutti, come sempre mi presento, sono Roberto Martini, preparatore atletico e mental coach sportivo. E nel video di oggi cercherò di darvi qualche consiglio per tornare ad essere costanti nella corsa. E magari con anche più voglia di prima. Però, come sempre ragazzi, devo fare una piccola premessa per dare un contesto a questo video. Perché sto facendo questo video? Perché all'incirca 11 giorni fa è nata mia figlia, è nata Violante, la mia piccola principessa. Come molti di voi possono immaginare, questa cosa ha stravolto completamente la mia vita. Cambiando le mie abitudini e facendomi perdere un po' di motivazione sotto l'aspetto della corsa. Quindi per qualche giorno non ho corso, come è giusto che sia, ho passato del tempo con la mia famiglia. Non sto seguendo più la mia classica dieta perfetta, tra virgolette. E anzi, con i nonni che ci vengono a visitare quasi tutti i pomeriggi, portando magari dolci, sembra già quasi Natale. E questo mi sta mettendo parecchio in difficoltà. Quindi, tutto questo per dirvi che ho perso un po' di scintilla e di costanza nella corsa. Ed ecco il perché del video di oggi. Penso che molti di voi si possono immedesimare in quello che sto vivendo io in questo momento. Quando qualcosa nella nostra vita stravolge completamente le nostre abitudini. E facciamo difficoltà a ritrovare quell'equilibrio per allenarci al meglio. Ed è un po' quello che sto vivendo io in questo momento. E in questi casi io soffro davvero tanto, perché alla fine io sono una persona molto abitudinaria. Mi alleno sempre alla stessa ora. Mangio sempre in un certo modo. Ho i miei determinati orari di lavoro. Quindi sono una persona molto da routine. Cosa che al momento ho un po' perso. Però, ragazzi, comunque nel mio caso ci sta. E sono più che felice di aver perso questa routine. Perché in questi giorni sono davvero la persona più felice del mondo. La piccola Violante è davvero un angelo. Anzi, ragazzi, colgo l'occasione per ringraziarvi di persona per tutti i messaggi che ho ricevuto. Mi avete scritto in tantissimi. Ho ricevuto tantissimi commenti, auguri. Siete stati fantastici. Non mi aspettavo qualcosa del genere. Quindi grazie mille, grazie a tutti quanti, da noi tre, da me, Tania e la piccola Violante. Siete magnifici come sempre, vi voglio bene. Ok, veniamo a noi. Come facciamo a ritrovare i nostri equilibri? E molti di voi su questo argomento mi hanno scritto come faccio a ritrovare costanza nella corsa. Ed ecco il perché di questo video. Punto numero uno. La prima cosa che dovete fare è accettare la situazione attuale. Non potete farci niente. E quindi dovete essere onesti con voi stessi, realisti, accettare quello che sta succedendo nella vostra vita anziché combatterlo. Questo è il primo passo. Diciamo che dovete mettervi un po' l'anima in pace e non sentirvi troppo in colpa. E poi dovete fare un'analisi delle cose che non vanno nella nostra vita. E qui passiamo al punto numero due. Prendete carta e penna e scrivete tutto quello che dovete modificare nella vostra vita. Per esempio, mangiare meglio, trovare il tempo per allenarmi almeno tre volte alla settimana, fare più stretching. Quello che dovete fare ragazzi lo sapete voi. Però l'importante è trovare quello che dovete modificare nella vostra vita e fare una lista. Mi raccomando è fondamentale essere onesti con se stessi. Altrimenti non andiamo da nessuna parte. Da qui passiamo al punto numero tre, collegato con il punto precedente. C'è il perché. Perché volete modificare queste cose nella vostra vita? Perché, per esempio, volete smettere di fumare? Perché volete mettervi a dieta? Perché volete correre tutti i giorni? I nostri perché, ragazzi, ricordate che hanno una forza immensa. E nei momenti difficili ci ricordano perché abbiamo scelto questa strada. Perché stiamo apportando queste modifiche alla nostra vita? Perché sto facendo tutti questi sacrifici? Per la mia salute? Per i miei figli? Solo voi sapete i vostri perché. Fate un'analisi, cercate dentro voi stessi e avrete una risposta. Poi, ragazzi, quarto punto. Una volta analizzate le cose che non vanno nella vostra vita, è fare una vera e propria lista di come andare a modificare quelle abitudini negative o quelle cose che non vanno. Per esempio, consultare un nutrizionista per avere una dieta. Oppure, correre tutte le mattine alle sette perché è l'unico momento libero della mia giornata. Oppure fare stretching la sera mentre sto guardando un film. cercate in questa fase di trovare la soluzione ai problemi che avete scritto prima. Logicamente sarà importante fare una lista di cose per voi realizzabili e fattibili. altrimenti questo elenco non ha molto senso. Anche qui dovete essere onesti su quello che potete realmente fare e quello che non potete. Se volete correre sette giorni a settimana ma è impossibile per voi trovare il tempo per farlo, dovete essere più realisti e magari dire, ok, voglio correre quattro giorni a settimana. Poi ragazzi, quinto punto e secondo me questo è uno dei più importanti. Trovare un obiettivo. E su questo argomento ho fatto moltissimi video dove spiego quali caratteristiche deve avere un obiettivo. Ricordate che avere un obiettivo aiuterà moltissimo la nostra motivazione. Per me è fondamentale, mi dà sempre quella scintilla in più per essere più costante negli allenamenti. Quindi scrivete sempre sullo stesso pezzo di carta qual è il vostro obiettivo. Mi raccomando, deve avere una data di scadenza, deve essere ben definito. Ricordate che l'obiettivo deve essere sfidante e non troppo facile, altrimenti non accenderà quella scintilla di motivazione in più. Un bellissimo obiettivo per esempio potrebbe essere quello di correre la mia prima maratona entro quattro mesi. In questo caso per me le gare funzionano davvero bene come deterrente per aumentare il livello di motivazione. Quindi nel momento in cui mi scrivo ad una gara è come se il mio obiettivo fosse deciso e definito e da lì in poi farò tutto il possibile per raggiungerlo. Logicamente in questo periodo per esempio non ci sono gare e possiamo inventarci delle bellissime avventure come ho fatto nei mesi passati. Va bene lo stesso, l'importante è avere un obiettivo chiaro in mente, sapere qual è la direzione che dobbiamo prendere. E da qui collegato con il punto precedente c'è il punto numero 6 dove dobbiamo fare un programma di allenamento che ci porti verso il nostro obiettivo. Noi dobbiamo sapere, dobbiamo vedere qual è la strada che dobbiamo percorrere per raggiungere il nostro obiettivo. In questo caso siete voi che dovete decidere se siete in grado di fare un programma di allenamento in modo autonomo, magari prendendo spunto da qualche libro, oppure se avete bisogno di un coach, di una persona che vi segua passo dopo passo. Valutate voi in base alle vostre esigenze e in base a quello che ritenete necessario e più opportuno sempre in ottica del raggiungimento del vostro obiettivo. Sicuramente avere una persona che vi segue e che vi sta dietro passo passo vi aiuterà ad accorciare magari le tappe. Non voglio assolutamente farmi pubblicità, trovate il coach che fa più per voi nella vostra zona magari o che più vi piace o che segue la vostra filosofia, però avere una guida spesso può aiutare e può fare la differenza. Sicuro ci aiuterà a non commettere degli errori magari. Poi, settimo punto ragazzi. Ora che avete scritto nero su bianco la vostra situazione attuale, i vostri perché, cosa dovete fare, il vostro obiettivo e il programma di allenamento che dovete seguire per raggiungerlo, dovete attaccare questi fogli in un posto dove li possiate vedere tutti quanti i giorni. Attaccateli sul frigorifero, attaccateli vicino al vostro computer dove lavorate tutti i giorni, non so, attaccateli dove volete. L'importante è averli sempre sott'occhio, così da poterli consultare nei momenti di difficoltà e ricordarvi il percorso che state seguendo giorno dopo giorno. E una volta alla settimana aggiungete una nuova routine alle vostre abitudini dalla lista che avete scritto prima. Per esempio, nella prima settimana inizieremo a seguire il nostro programma di allenamento personalizzato. La seconda settimana andremo a contattare un nutrizionista per farci una dieta su misura. La terza settimana inizieremo a fare quasi tutte le sere stretching mentre guardiamo un film con la nostra compagna. Ecco, il senso è modificate le vostre routine in modo graduale. Aggiungete una cosa per volta, non fate tutto insieme. In questo modo eviterete di sovraccaricarvi troppo e magari di esaurire subito le vostre energie. Mentre invece aggiungere una cosa per volta vi renderà il percorso molto più facile. L'importante è avere sempre a mente la lista delle cose che dobbiamo fare. Ottavo ed ultimo punto. Create la vostra routine. All'inizio sarà più difficile, ma dopo un paio di settimane inizieremo a fare le cose in automatico. Per esempio, se avete deciso di correre tutte le mattine alle 7, dopo due settimane questa sarà diventata un'abitudine. E non vi peserà più uscire ad andare a correre come lo era nei primi giorni. Lo farete semplicemente in automatico. E quando sarete arrivati a questo punto, ragazzi, il gioco è fatto. Siete già 10 passi avanti. Da lì in poi la strada è in discesa. Aggiungete delle routine positive nella vostra vita ed eliminate quelle negative. Avere una routine e un programma di allenamento da seguire sono la chiave del successo. E qui ragazzi c'è una frase che dico sempre ai miei allievi. Quando perdono costanza nei loro allenamenti. Ragazzi, io non posso correre per voi. Siete voi che dovete trovare la forza e la voglia di correre dentro voi stessi. I fogli che avete scritto prima e che avete attaccato sul frigorifero racchiudono questa forza. Ce l'avete dentro di voi. Dovete solo scoprirla, tirarla fuori ed utilizzarla. Rileggete quei fogli quando siete in difficoltà. E ricordate a voi stessi perché state apportando questi cambiamenti alla vostra vita. Ricordate che passo dopo passo possiamo arrivare ovunque. E che non esistono limiti. Non limits. Bene ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri metodi per essere costanti nella corsa. Come sempre i vostri consigli possono essere di aiuto a qualcun altro che sta guardando questo video. Se poi avete trovato utile questo video e vi è piaciuto mettete un bel mi piace qui sotto. Seguitemi su Facebook, Instagram, Strava, ovunque volete. Ma soprattutto ragazzi, cercate di essere costanti nella corsa. Ciao ragazzi, buone corse a tutti! Grazie. Grazie.